Chiedete e riceverete. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova. A chi bussa sarà aperto. Qual è tra di voi quel padre che darà a suo figlio una serpe quando gli chiede un pesce? O uno scorpione quando gli chiede un uovo? Per quanto cattivi, voi sapete dare cose buone ai vostri figli. A maggior ragione il padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Perciò io vi dico, non preoccupatevi troppo del cibo che vi serve per vivere o del vestito che vi serve per coprirti. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate i corvi. Non seminano e non raccolgono, non hanno né dispensa né granaio. Eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. Chi di voi, per quanto si affatichi, può prolungare la propria vita? Se non potete fare questa piccola cosa, perché vi affannate per il resto? Osservate come crescono i fiori dei campi. Non lavorano né filano. Ma neppure Salomone con tutta la sua ricchezza ha mai avuto un vestito così bello. Visto che Dio veste così l'erba del campo che domani verrà gettata nel fuoco, quanto più splendidamente vestirà voi, gente di poca fede. Accresci la nostra fede, Signore. Se aveste una fede piccola come un granello di senape, potreste dire a questa pianta di gelso, toglieti di qui e vai a piantarti nel mare, e vi ubbidirebbe. Grazie a tutti.